Sono Antonello e con mia moglie Angela siamo mamma e papà di 11 figli. A loro abbiamo trasmesso la forza della fede, della speranza e della carità. Da 30 anni siamo al servizio del bene e la provvidenza non ci ha mai lasciato soli nell'aiutare le famiglie meno fortunate. Per noi questa è la vita. La vita è un talento da spendere con generosità. Dona anche tu. Associazione Fede Speranza e Carità. Fare del bene e farsi del bene. Grazie a tutti.